Allora, io mi limiterò a leggere ciò che ho scritto, ok? Una lettera. Scrivo questa lettera mentre aspetto l'aereo di ritorno da Milano a Roma, dall'aeroporto di Linate. Ci tengo a precisare fin da subito che queste mie parole non sono volte a incolpare nessuno o a parlare male anche nel modo più remoto di qualsiasi persona o entità. Voglio solamente condividere con voi tutto ciò che è successo dal mio punto di vista in questi due ultimi giorni a Milano, né più né meno. Vengo contattato per partecipare in qualità di cantante nella maratona di Marco Merrino. Io accetto immediatamente con estremo entusiasmo, dato che cantare, ma più in generale la musica, è una se non l'unica cosa che veramente mi porta gioia in questo mondo infame. E così, anzi, è così da quando ho imbracciato il mio primo strumento da adolescente e penso sarà così fino a quando tirerò le cuoia. Preciso questa cosa per farvi capire meglio il mio punto di vista ed aiutarvi ad empatizzare di più con le emozioni che sto per descrivervi. Mercoledì mattina mi sveglio alle 8 e salgo a Milano, accompagnato all'aeroporto di Fiumicino da un David Rubino con zero ore di sonno, che ringrazio per il passaggio. Uno spam di Rubino in chat. Sì, grazie Rubino. Dato che ultimamente viviamo in un mondo un po' particolare, tre ore e mezzo prima della partenza del mio aereo ho fatto un tampone rapido in aeroporto. Ogni passeggero del volo doveva risultare negativo ad un tampone, quindi ho viaggiato in totale sicurezza dal Covid. A ritorno no, però, quindi strana sta cosa. Ma vabbè, questo è un problema di organizzazione dell'aeroporto e di Alitalia. La faccio breve. Dopo il check-in all'albergo bellissimo dove sono stato messo, infatti ci tengo a ringraziare le persone, cioè chi ha gestito l'evento da questo punto di vista, perché sono stato trattato bene, arrivo in studio dove avrei dovuto provare con la band. Tra di noi c'è subito sintonia, sono dei musicisti molto bravi, grezzi, al punto giusto come piace a me e come sono anch'io tra l'altro. Proviamo ripetutamente Happy Together, la canzone che sono riuscito a cantare con Marco. e All My Loving, la canzone dei Beatles che avrei dovuto cantare da solo. Escono entrambe benissimo già da subito, ma le proviamo comunque ad oltranza per stare sicuri, per ore. Con la band si è subito creata un'ottima sinergia ad una simpatia generale, dato che comunque suonare in gruppo è una delle attività legate alla musica che preferisco. Non mi è stato espressamente detto da loro, ma credo che fossero contenti di suonare due canzoni con me. Mentre ero lì, ho anche aiutato qua e là come potevo, i preparativi, no? Il giorno prima, prima di collassare sul divano perché avrò avuto al massimo due ore di sonno in corpo. Schippiamo la live con Sdrumox avvenuta quella sera, anche se è stata leggendaria, presto ne uscirà un best off, per arrivare al giorno fatidico della live, cioè oggi. Arrivo in studio, tutto elettrizzato, con la camicetta carina, tutto inghimmicchito, perché ci tengo a fare un buon lavoro. Finalmente, mi dicevo, avrò l'opportunità, dopo quattro anni di lavoro su internet, di contribuire ad un bel progetto, solo ed esclusivamente come musicista. Ero veramente gioioso di questa cosa, dovete capirlo. Lo avevo già annunciato a tutti i miei amici e familiari ed erano tutti pronti a seguirmi per vedermi finalmente cantare live su un palco dopo tanto tempo. Tra l'altro, in un periodo storico del genere, è quasi un miracolo per un musicista riuscire a suonare dal vivo, quindi capite quanto non vedessi l'ora di fare questa cosa. Infatti, ringrazio nuovamente per la proposta. Dopo la prima esibizione con Marco, nella quale ci siamo divertiti tantissimo, la sera prima, a luna di notte, l'avevamo anche riprovata sul suo terrazzo, vengo preso in disparte, mentre Marco continuava la sua live, e mi si dice questo. Ci dispiace tantissimo, ma lo sponsor di questa live ci ha detto che non potrai più esibirti in quanto ti reputano un personaggio scomodo a causa del cerbero. Io rimango per un attimo basito, ma comprendo immediatamente che la persona con la quale stavo parlando era soltanto un messaggero ed era dispiaciuta quanto me. Io rispondo che capisco le loro ragioni, ma ci sono rimasto male. A quanto pare lo sponsor non sarebbe stato al corrente della mia esibizione, della mia presenza in generale come ospite, quindi il problema è stato un errore organizzativo di mancata comunicazione. Fatto, sono sicuro, in buona fede. L'idea di una partecipazione del Cerbero a questa live nella maratona era già stata scartata a monte, ma non si pensava fosse un problema far salire solo me per cantare due canzoni d'amore degli anni sessanta. Evidentemente però era un problema. Preciso che io non avrei dovuto parlare o fare interviste per esprimere le mie controversissime idee, il mio contributo sarebbe stato prettamente musicale. Insomma, dopo aver appreso la nefasta notizia che non avrei cantato più, resto cinque minuti per parlarne un po' con Dario Moccia e Dagnese, che saluto, e poi, nonostante la mia delusione sempre più crescente, faccio l'unica cosa che un adulto dovrei fare in queste situazioni. Me ne sono andato a casa di Sdrumox a piangere. Ovviamente scherzo, non ho pianto, anche se ammetto che se fossi stato in solitudine da un piantarello da stress me lo sarei fatto, ma ho parlato un po' con Daniele che mi è stato molto vicino e poi mi ha accompagnato in aeroporto dove sto scrivendo questa lettera. Nel tragitto ho parlato anche con Marco al telefono che si è dimostrato giustamente dispiaciuto e mi ha detto un sacco di belle cose. Ho apprezzato più di tutto la sua onestà intellettuale nell'incitarmi comunque a parlare sui miei spazi di questi avvenimenti. Ora, cosa voglio ottenere dicendo tutto ciò? Niente. Io voglio che sia cristallino, non voglio niente, non voglio scuse né una fantomatica giustizia, non voglio niente da nessuno, solo di essere lasciato in pace per un po'. Credo solo di aver esercitato il mio diritto stacrosanto di raccontare questa storia dal mio soggettivissimo punto di vista. Anche se è stato ovviamente stressante, non rimpiango di aver fatto questo viaggio lampo a Milano perché mi ha dato la possibilità di approfondire la conoscenza di due persone bellissime come Marco e Daniele, oltre che staccare un po' dalla routine. Chiedo scusa a tutte le persone alle quali non ho risposto al telefono nelle ore passate, ma ho deciso che fosse meglio per la mia psiche se mi fossi preso un po' di tempo per riflettere per conto mio. Spero che non siate arrabbiati con me e che cerchiate di mettervi nei miei panni per quanto possibile. Grazie mille a tutti coloro che mi sono stati più vicino in queste ore, Daniele, Dario, Marco, Tago, Dave, e ovviamente Davide e Gianluca. il pippone è finito, andate in pace.